No, allora l'è piaciuto Rosa di Rosa. Dicevo, lei è stata raccorta, è un'autofiction un po'... Ma c'è l'autofiction, io vivo di autofiction. Sulla falsariga, diciamo, un po' di romanzi un po', che a me mi piacciono un po'. Ma io ci ho visto Flaubert, ci ho visto Mopassant, ci ho visto il volo dell'inizio, insomma. Ma è un libro di ricette. È un libro di ricette. È venerdì e già lo sai, la morbidezza accoglierai, su YouTube e su Spotify, basta che me mi play. Cashmere Podcast Un podcast morbidissimo Benvenuti ad una nuova puntata di... Cashmere, un podcast morbidissimo Questo non è il rumore, questo sembrava una SMR. In realtà questi erano le pale degli elicotteri dell'esercito americano. Che anche qui, anche in questa zona, e per fortuna che siamo in questo bunker, possiamo stare tranquilli. Noi siamo nascosti nei tunnel... Noi siamo quasi nei tunnel sotto Montemario in questo momento, cosa vera, ci sono dei tunnel che risalgono alla Seconda Guerra Mondiale e possiamo dire che effettivamente già solo per arrivare qui questa mattina ce la siamo vista brutta. Sopra di noi Robert Duval vuole andare a fare surf all'incrocio. Esattamente, sì, sì, sì. Adoro l'odore delle Ixam al mattino. Per fortuna, per fortuna che... Vediamo se questa guerra si... come passerà, come non passerà. Tu che sei nato a Roma Nord. Accidenti. Di che battaglione facevi parte, Edo? Battaglione Balduina, signore! Siamo quelli che non sono riusciti a comprare Casa Vigna e Clara, signore! E qual era il vostro compito? Il nostro compito era cercare di rendere la Balduina un quartiere migliore, ma è un quartiere dove non ci sono cinema, non ci sono scuole, non c'è niente, signore! Ci si torna a dormire la notte, signore! Quindi è un quartiere residenziale? È un quartiere residenziale, signore! Ci sono solo negozi per mamme di 60 anni, signore! Non si comprano neanche i jeans a Balduina, signore! C'è Bubba, come Fars Gump, che dice... E questo è tutto quello che so sull'Atac, perché non conosce le linee, non sa niente... Cioè, non so che autobus ci siano nelle zone... Cioè, il 9,90, signore! Il 9,13, signore! Portano in Prati, signore! Ma quello non è più Vietnam! Quello è così, Prati non è il Vietnam, Prati è un... E chi erano i vostri fottuti... I nostri fottuti nemici sono quelli di Prima Valle, signore! Salivano da via Mattia Bettistini e ci venivano a picchiare fuori scuola, signore! E quando ti è arrivata la letterina che ti ha convocato in guerra? Che cosa stai facendo? La letterina mi è arrivata quando portavo la mia felpa dei Blink 182 al liceo, signore! E li trovai fuori scuola e mi picchiarono molto forte, signore! E lì ho capito che volevo essere un soldato e vendicare il nome del mio quartiere! Ovviamente stiamo facendo riferimento al... Memorabile, a questo punto diventerà memorabile, se non fosse che le polemiche durano mezza giornata e poi bruciano come i resti di un elicottero abbattuto sopra noi... Esatto, al titolo del messaggero che nell'intervista che ha fatto a Pietro Castellito... No, sette! Scusa, sette! Quindi Corriere della Sera! Però io l'ho visto rilanciato dal messaggero! È stato rilanciato da... L'hanno rilanciato tutti, ma anche questa cosa... Ma si può fare che tu... Eh, ormai sì! Cioè, rilanciano, non è che poi avessero tanto citato la fonte! Esatto! Quando diventa un meme, rilanciano tutto! Noi non abbiamo paura invece, visto che non siamo stati citati da un portale dei tennis che si chiama Tennis World Italia, di dire a gran voce, mi assumo la responsabilità di quello che sto per dire, andate a fare in c***o testa di c***o, perché se prendi i pezzi di un'intervista al grande Matteo Berrettini e poi ne fai quello che vuoi senza citare le fonti, va bene che oggi si fa così, ma sapete cosa vi dico? Fuck off! So che ti intervisteranno adesso, dopo questa dichiarazione, sicuramente! Tennis è il mio Vietnam, e tanto questo è vero! Quanto è bello quando tu in un'intervista dici una frase qualsiasi? Una battuta, magari! Una battuta! Magari anche detta, non so, fuori al bar mentre stai mangiando un cornetto salato con la giornalista, poi adesso iniziamo l'intervista quando entriamo dentro e poi... Lei va... E la vedi che è elettrizzata e poi il giorno dopo vedi Pietro Castellitto, Roma Nord è come il Vietnam! Ma lì la bravura del titolista che si legge l'intervista, ascolta, magari l'audio e va a stanare... E va a stanare la frase più... che può essere più fraintesa di tutte le altre! Esatto, facendoti fare una figura di merda a caso! Immotivata, completamente! Anche se in questo caso fa ridere anche il fatto che un botto di gente l'abbia presa sul serio questa frase! Certo! Sì, sì, come al solito! Vabbè, insomma, sono settimane che si prendono sul serio cose stupide! Tipo la pubblicità del Parmigiano Reggiano, per esempio, con il buon Renatino! È vero, ma perché nessuno invece ha parlato e ha puntato il dito verso il consorzio del Parmigiano Reggiano che avrà speso 7 milioni di euro da dare a Genovese per fare un mediometraggio nel 2021? Non si sa! Ma che cazzo di... Non si sa! Non si sa! Però è bello che la gente abbia preso sul serio l'ipotesi che ci possa essere un signore che di lavoro per 365 giorni l'anno gira il caglio in una tinozza, che è una cosa che anche in una fiaba dei fratelli Grimm è stata poco credibile! Però le persone si sono indignate! Beh, sì, perché si sono indignate, giustamente, e si sono indignate, diciamo, scrivendo su cosa? Scrivendo, scrivendo sui loro bei, sui cellulari, sui computer, fatti da dei renatini asiatici, però ce ne fanno un cazzo di quelli! Quelli possono morire nelle fabbriche, però vuoi mettere... Quella è la specialità della casa! Quando ci si indigna per qualcosa o si sostiene un'altra battaglia, c'è un brand e ci si dimentica spessissimo! Che cosa c'è dietro? Che il brand fa un po' ogni riferimento alla Nike! E la gente si è indignata anche per la frase di Pietro Castelletto, pensando che davvero ci fosse un'intenzione di descrivere Roma Nord come il Vietnam. E sai che c'è? Lo confermo! È tutto vero! Siamo cresciuti nel Vietnam! Provate voi a diventare autonomi, a farvi volere bene dagli amici crescendo a Piazza Euclide! Sono state combattute tante guerre dall'America nel Novecento. Non so se crescere a Trastevere può essere considerata come una Corea. Lo chiediamo al nostro inviato. All'ambasciatore! Secondo me invece era tipo un fotografo di guerra, Tahir. Quelli che mettevano i... Tu hai vissuto... Come l'hai vissuta questa Corea? Crescere in questa... Steve McCurry di Piazza Santa Maria. Il Robert Kappa. Io ero tipo Corea del Nord. Stavo là, nessuno mi rompeva il cazzo. Cioè che è esattamente com'è la Corea del Nord. È vero! Se sei Kim Jong-un sicuramente. Se sei un soldato semplice è un po' meno. Un po' meno. Se sei un individuo semplice. Sì, certo, certo. Carmelo invece in quale infernale quartiere di Roma sei cresciuto tu? Intanto vi saluto con un... Good morning, trionfale! Ti apprezza molto. No, io sono cresciuto qua e là... Non mi piacciono queste domande, però... No, perché tu sei cresciuto, diciamo la verità. Non lo diciamo, non lo diciamo. Il passato di Carmelo. La circoscrizione non inizia proprio con 0-0. Lui è un contractor, quei soldati vengono... Ah sì, è un mercenario. Un mercenario. Era un mercenario. Passa da una parte all'altra. Eh, eh, eh. Però vorrei dire una cosa, che in realtà Pietro Castellitto non ha detto in che anno è stato in Vietnam, magari c'è stato l'anno scorso in vacanza e parlava di quello. Oddio, in effetti è vero. In effetti, vedi, non abbiamo considerato questo. Quindi è un posto che è rinato. È molto bello. Con un sacco di noodles e zuppe. Il settore secondario fiorente, molto industrie. e la North Face fa tutte le giacche in Vietnam, forse in effetti intenderà quello. Ma se è stato il Vietnam, Roma Nord, Catania, com'è stata? Stavo provando a immaginare un paragone, non mi viene, non lo so, forse... La guerra dei cent'anni, forse. Sì, stavo pensando tipo le guerre puniche, Catania. È gestente Cartago dell'Anda Est. È vero, è vero, è vero. No, alla fine mi sa che... No, Cecilia è cresciuta veramente nel vero Vietnam. Vabbè, no, non sono cresciuta ai parioli, ma altri est salario. Ah, scusami. Vabbè, non è proprio il vero, non è l'ificentro del Vietnam. È un po' la Cambogia. Forse il Laos. Posso dire il Laos? È la Cambogia, è il cuore di tenebra. Il cuore di tenebra e il vostro, secondo me, il colonnello Kurz, era seduto al Tortuga. Esatto. E poteva essere o Antonello Venditti o un altro personaggio del cuore. Non diciamo il nome. Eh no, non diciamo il nome. Però mi sa che tu l'hai capito. L'hai capito. Eh, sono personaggi mitologici del Tortuga. Stanno flirtando fra i loro. Forse qualcuno, qualcuno avrà indovinato chi era il re del Tortuga. Ragazzi, tutto bello, tutto simpatico, come sempre le polemiche della capitalina. Ma se Roma Nord è il Vietnam, Milano, Piazza Missori, cos'è? Ecco. È bella domanda. Secondo me Milano, Piazza Missori è forse… La battaglia d'Inghilterra, l'assedio dei nazisti. Però un po', non lo so, in realtà. Una foto della libreria distrutta. Se Roma Nord è il Vietnam, Roma Sud ok, Hiroshima e Nagasaki. Eh sì, mi sa di sì, infatti. Quello pure andrebbe chiesto, sì, sì, sì. Quelle belle motorinate che partivano. Re Bibbia, chissà cosa avrebbe detto l'amico Zero Calcare. Ma quella andava al Shadow Brian, ma che c'è? Ecco, altra minchiata che potrebbe dire un giornalista, capito? Andava allo Shadow Brian. Comunque veramente, cioè piena solidarietà a Pietro Castellitto e odio totale per questi cazzo di titolisti. Sì, davvero. Anche i titoli vostri, alcuni erano scandalosi di alcune interviste vostre. Non toccare l'intervista che abbiamo fatto per, come si chiama? Glamour quella che abbiamo fatto per quella signora. Ah, che bello. No, 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 quella era bella, quella era bella. Scusate, posso spezzare una lancia in favore della mia categoria professionale? Prego, prego, prego. Tu non sei una titolista però intanto, parliamo di noi. No, a parte che ormai questa distinzione non esiste più, ormai. Tu fai i titoli dei tuoi articoli? Quando ho lavorato in redazione ho fatto anche i titoli, nonostante fossi… Alice lavorava da libero e fece il famoso titolo dopo il problema di terrazza sentimento. Comunque se lei cerca di… Bravo che è durato nove ore. Io vorrei fare l'articolista da Dago Spia più che altro. No, hai fatto l'articolo quello lì sui terroni a libero, il famoso titolo… I terroni capiscono meno. Sì, 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 avrei fatto quello. No, cioè che la colpa è degli editori che obbligano e schiavizzano i giornali al click e quindi tutto è fatto per fare clickbait e quindi ogni titolo deve essere fatto per partecipare l'articolo e quindi arriviamo a questo punto. Detto ciò, con questo titolo però tutti parliamo del libro. E quindi un applauso all'agente letterario di Pietro Castellitto, edito da Bonpiani. Gli amici di Bonpiani che ci seguono sempre molto spesso, che salutiamo, ci hanno mandato molti libri, fra cui Gli Iperbore, che io ho letto, è molto bello, mi è piaciuto molto e lo consiglio a tutti. Sì, praticamente è Cuore di Tenebra, sta a Cuore di Tenebra come… È il nuovo Cuore di Tenebra. Esatto. Ma perché stiamo parlando, abbiamo anche addirittura citato il nome di una casa editrice, stiamo parlando dei libri, ma soprattutto per chi ci sta guardando, perché abbiamo due giacchette da faccia di micia? Io addirittura di velluto a coste, comparata nel 2009. Io faccio un podcast che non ha bisogno di nomi. Ah, minchia. Però, di la verità, l'hai comprata proprio tu, tu, tu o più tuo padre? No, di mio padre. Strano, sai che non l'avrei detto. Non pensavo che tu andassi a comprare una giacca di cashmere con cui puoi andare a giocare a tennis. Eh sì, esatto. Oggi, signori, parliamo della prima arte, forse? No, non so, fra le varie arti qual è, il cinema e la settima, la letteratura quale sarà? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Ma parliamo oggi di letteratura e del magico e fatato mondo dell'editoria, croce e delizia degli intellettuali italiani. Ma soprattutto croce. E che croce. E che croce, esatto. Però c'è un'aura che ammanta, no? L'ideale dello scrittore. Oggi, quando ci siamo detti come ci vestiamo, io ho scritto, mettiamo le giacche. Con le toppe. Con le toppe. Con le toppe per Dio. Con le toppe. Se no, cosa parliamo a fare? Come fai a scrivere e appoggiare i gomiti se non hai rinforzo? L'ideale di quello scrittore romantico, prima con la penna e il calamaio, no? Che scrive così. E poi... Legatemi a una sedia, buttate la chiave, lasciate che... Fate la chiave e scriverò un romanzo velleitario che non leggerà nessuno. Prima così e poi con la macchina da scrivere, rintanato nella sua casa, nella sua villa, in Provenza, o sui monti, o a guardare il mare, perché il mare è un aeroporto verso i sentimenti. E io, questa macchina da scrivere, il mio aeroplano. Coppie vendute, otto. Il titolo era di questo capolavoro? Il titolo di questo romanzo era Crescere, rincasare e infine morire. L'autobiografia del mio sentimento d'amore. Nome dell'autore? Nome dell'autore, Rodrigo Giambertazzi. Nato? Nato a Brescia nel 1949. Morto? Morto al Flaminio nel 2009, dopo aver sposato una romana ereditiera di famiglia di palazzinari, che ha contribuito a, in qualche modo, pagare tutte le sue velleità letterarie. Perché c'è un problema? Editoria. Pochissimi soldi, moltissima boria. Cioè, non esiste un settore in Italia in cui ci sia così tanta competizione e purtroppo così poco mercato. Così poco mercato, esattamente. Perché mi sa che i grandi lettori, i lettori forti, con almeno 12 libri letti all'anno, leggiamo dei dati reali Istat, procuratici da Francesco De Carlo, su programma Data Comedy Show. Ogni martedì in seconda serata su Ray 2. Sono solo il 15,6%. E questo uno potrebbe dire, beh, almeno leggono 12 libri l'anno. Ma leggiamo invece chi sono i lettori deboli. Poco meno della metà sono lettori maschi, il 47%. Nei 12 mesi leggono al massimo tre libri. Vabbè. Il 44% degli italiani legge al massimo tre libri all'anno. Sì, ma non riesco a capire dove è posizionata la fetta della torta in cui dovrebbero stare persone che non leggono neanche un libro. Credo che sia il restante 44-13. Non so, penso ci sia un buon 30% italiani che non leggono neanche un libro all'anno. Io pensavo addirittura di più. No, 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 no. In realtà, cioè, pensavo che più del 50% degli italiani al massimo leggessero, non lo so, uno o due libri all'anno. Mi piace pensare che gli ascoltatori in questo momento, le ascoltatrici, siano fermati a pensare, aspetta, quanti libri ho letto? Eh, esatto. Ebbè, è giusto, è giusto. Ditecelo in un commento. Anche perché poi ci sono i lettori estivi. Tipo Carmelo, che cosa vuoi? Io pensavo invece che fosse sovrapponibile con i non vaccinati. Wow, what the fuck, Carmelo? Ehi, amico, questo è il vero cazzo di Vietnam. Questa la bombardiamo su Twitter e facciamo almeno due retweet. Accidenti, questo è il cazzo di Napalm. Wow, amico, vaccino. 44% legge massimo tre libri l'anno, 15% ne legge 12 e mi sa che gli altri ne leggono zero. Ragazzi, questo è... Però magari li comprano. E voi a quale categoria appartenete? Li regalano anche, perché c'è anche categoria dei regalatori di libri. Tra le due a metà, sinceramente. Beh, no, io dai, no, 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 io di più. Io ne leggo più di 12 l'anno. Sì. Tair? No, la T3. Nel 2000? Nella vita? Oggi? Oggi, in giornata? No, pensavo nella vita. Quest'anno. Quei ragazzini indiani che vincono, che fanno il Guinness dei primati leggendo... Tutti libri di finanza. Ah, tutti libri di finanza? Ti sei sparato i vari Padre Ricco, Padre Povero. Tutti quelli lì, quelli per diventare. Quello dei Marfi. Grande. Ma senti, cosa c'è scritto in Padre Ricco, Padre Povero? Perché lo stanno leggendo amici. Ma te posso di un po' decazzare. Cioè, quello che non mi è piaciuto di me. Perché non ti spiega i grafici, è tutto sulla filosofia. Ti dice, non devi piagni quando la roba crolla. Proprio così, non devi piagni quando la roba crolla. Allora, io prevedo, sono sicuro che fra poco, quando voi aprirete un video su YouTube o scrollando su Facebook, ci sarà Tair con cravatta giallo-oro, un anello, ferma soldi appoggiato qua che ti dirà, ascolta, fermate un secondo. Quando si tratta di comunicazione ed economia, la cosa importante è avere le idee ben chiare. Ok, con il mio corso, Tairus Sein, padre figlio, padre povero, papà dove sei? Potrei andare alla ricerca delle cose importanti della tua vita, con le quali sostituire la figura paterna. Avete presente quei personaggi che leggono due o tre manuali? Sì, sì, certo. Io sono affascinatissimo, affascinatissimo. Non c'è una donna, sono tutti maschi. Tutti maschi. No, 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 c'è una donna. E chi è? C'è una donna sempre seduta sulla Mustang con tipo a terra... Ma quella è tipo... 150.000 euro in mazzetti da 100.000 euro. Ma quella è tipo, donna di Roma diventa ricca investendo in Bitcoin, guarda qui, non è un libro, è un link di tabula. Ti vuoi diventare ricco come me e ti tira i soldi palesemente finti poi. E ti dire i soldi così. E poi arriva il marito, esci da quella macchina, dai, torna, vai a Pilates, ti ho scritto apposta. No, vabbè. A proposito di ricchezze di libri, non si può non partire nel 2021 da, diciamo, una società che del vendere i libri ha fatto prima il suo core business e poi dopo ha un po', diciamo, cambiato, sta un po' cambiando la faccia del mondo. Ma stai parlando del tuo datore di lavoro, per caso? Sto parlando del... Stai parlando di Geffetto? Di Geppetto, del Jeffrey Bezos. Chi lo avrebbe detto? Immagina se questo podcast l'avessimo fatto nel 98. Sì. Non so come si sarebbe chiamato. O se fossimo semplicemente Marco Montemagno. Pensate voi questo pazzo che in California nel 1997, ragazzi, decide di iniziare a vendere i libri. Marco Montemagno era in New York. È una cosa incredibile. Marco Montemagno era in New York. Voi avreste il bumerato, avreste detto, ma ti pare che io vengo i libri su internet e non vado in libreria. Still today, io penso a questa cosa. A te, Tahir, a te. Non manca l'odore della carta. Quando vai in una libreria non ti piace aprire e sentire l'odore della carta, perché ogni libro ha un odore suo. Ascolta, mio amico, dare un'occhiata alla libraia che va pescata come un caco quando è matura. Va presa nel momento vivo. Andar lì e dirle, senta, mi consiglia questo primo Levi. E palparle un seno, avidamente, perché sarai l'unico a farlo. Poi ti rende conto che è tua figlia che lavora lì e tu non ci vieni più bene. E per il resto questo accade nelle librerie d'oggi. Tu compri spesso su Amazon? No, devo dire che preferisco il cartaceo. Anche io preferisco il cartaceo. Alice ha il suo lettore Cobo. Allora, io sono dell'idea che se leggi tanto, gli reader sono comodissimi. Io, essendo una forte lettrice, effettivamente è molto più comodo, perché ho un cosettino così, me lo porto ovunque. Poi, soprattutto, i libri di merda non mi sento in colpa che ho fatto tagliare gli alberi per leggerli. Certo, sono pienamente d'accordo. I libri di cui ti vergogni si acquistano. Io ho la regola che se sono libri nuovi, li compro su e-reader, cioè per e-reader. E se invece sono libri vecchi, o comunque, diciamo, edizioni in particolare, allora mi cerco l'edizione che mi piace e me la prendo spesso anche usata. Beh, se ti capita, adesso vuoi prendere questo qua di Castellitto, Vietnam e Roma Nord. Se ne vuoi prendere invece uno vecchio, in edizione usata, si trova anche di Barbara Palombelli, c'era Il mio Olocausto. Sì, Il mio Olocausto. Il mio Olocausto. Non era Il mio personale Olocausto. Il mio personale Olocausto, sì. Edito da, non lo so, Matrimoni Fortunati Casa Editrice. Ex sindaci di Roma editore. Quando io percorro, scusatemi, Viale Tiziano, sul tram, aiutami tu a dirlo, guarda. Io personalmente sento le stesse emozioni che ho ascoltato nelle parole di Primo Levi. Assolutamente sì. Andare all'Ikea, per me, è come stare chiusa in un campo di concentramento. Quando sono lì, in mezzo ai lac, a comprare le mensole piene di trucciolato, io penso, se questa è una donna, scusatemi, ma sono fatta così, sono fatta in un'altra epoca. Ma, adesso stiamo parlando in modo, come sempre, ci mancherebbe altro, una spolverata di divertimento sul mondo dell'editoria. Pizzico, di buon umore. Pizzico, di buon umore. Perché no? Ecco, sai cosa è proprio una cosa che manca durante il mondo dell'editoria? Il buon umore, il divertimento e l'autoironia. E i luoghi, i momenti in cui maggiormente si nota questa cosa, sono ovviamente le presentazioni. Le presentazioni dei libri, croce e delizia, ma più croce, ma molte croce nell'editoria. È un cimitero di soldati in Bretagna. Allora, io credo che è peggio soltanto dell'amico, dell'amica tua, del parente che ti invita alla recita di teatro, allo spettacolo. Venitemi a vedere al mio spettacolo di teatro. Quanti anni ha? La persona che ti invita. Che ti invita, generalmente ne ha 54. Stiamo rifacendo un comediografo francese fino ad 800. Tutto lo spettacolo è, cielo mio marito! Esatto, tutto così. Tutto così. Forse peggio soltanto di quello, c'è l'amico che ti invita, l'amica di mamma, che ti invita alla presentazione del suo libro. Sì, ma anche qui spezziamo una lancia in favore di quelle signore, di quei signori che con bellità però, cioè tranquilla alla fine. No, 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 vabbè, ma sì. Ti invita a una rottura di cazzo che non finisce mai, è bellissimo. Infinita, infinita. E, sì, no, è una rottura di cazzo. Anche perché spesso non sono in libreria, sono tipo al bar. No, ma non sono nei bar e soprattutto sono autoprodotti. Perché parliamo anche delle case di produzione e dicono, trovo il suo libro straordinario. Lei lo scriva. Lei intanto lo scriva, noi glielo stampiamo e poi abbiamo, insomma, un certo tipo di distribuzione. Noi arriviamo persino all'alimentare qui all'angolo, voglio dire, ogni giorno entrano più di 80 persone a comprare il pane. Guardi, io ci ho messo il cuore mio in questo libro, si chiama La Rosa di Rosa. Rosa di Rosa! Io già sono colpito da questo suo titolo. Io sento che già è un Berto Eco, Rosa Park, quella che non diede l'autobus. Mi dico, mi dico, io sono Rosa di Rosa. Lei l'ha letto. Certo che l'ho letto, accidenti se l'ho letto e sono caduto dal divano quando l'ho letto. In parte, in parte. No, allora le è piaciuto Rosa di Rosa. Dicevo, lei si era accorto, è un'autofiction un po' su... Ma certo l'autofiction, io vivo di autofiction. Sulla falsariga, diciamo, un po' di romanzi un po' che a me mi piacciono un po'. Ma io ci ho visto Flaubert, ci ho visto Mopassant, ci ho visto il volo dell'inizio, insomma. Ma hai un libro di ricette? Hai un libro di ricette? Che cos'era Bovary se non un uomo che curava l'amore? Se non erano ricette per il cuore? Se Flaubert non ci ha dato delle ricette per orientarci nel mare delle nostre emozioni? Mi dica lei cosa cazzo era Madame Bovary? Armando, te sei tanto, godio scusa. Quando mi tocchi così, tesoro mio, Rosa di Rosa. No, no, sei una cosa che... A me quel weekend insieme a parlare mi è piaciuto tanto. Ma raccontami un po' di... Stai zitta. Sai benissimo che nell'altra stanza lavora mia moglie, eh? Vi piace. Lo so, lo so. Quanta antipatica quella tedesca. Non di parlare, è stato un errore di gioventù quel matrimonio. Ma... Ma come la organizziamo la distribuzione? La organizziamo che mi dai 4 euro a copia e abbiamo fatto, cara Rosa. Questo è il modo migliore per distribuire. Va bene, speriamo che il mio marito non si arrabbi. Ecco qua l'assegno. Senti, ma non mi lasci una copia autografata, solo per me Rosa, eh? Soltanto per me. Dura 6 pagina. Smetti gli occhiali. Ad Armando. Persona squisita. Resto c'è mia moglie nell'altra stanza. Amico straordinario e... E? E? Ricordo... Ricordo di... Una passione nuovamente accesa. Due punti. Quella per la letteratura. Punto. Cuoricino. Smile. Stellina. Bene. Rosa. Grazie, grazie Rosa. Ah, non ti ho detto mia moglie nell'altra stanza, ma nell'urna. Ci sono anche poi, all'alto di queste situazioni ovviamente super amatoriali, come da tutti i punti di vista, ci sono anche, c'è anche il mondo, e questo sì veramente spocchioso, e queste sì che sono veramente noiose, le presentazioni. In questo momento a Roma c'è più libri, più liberi. Esatto. È la fiera della piccola e media imprenditoria editoriale. E fra le tantissime, ovviamente ci sono tantissimi autori, autrici, bravissimi, che troveranno speriamo futuro, e se troveranno un futuro, che avranno un futuro, però, ecco, quante parole per arrivare a dire la verità. Quagliamo, quagliamo, di coglioni. Tu sei stato l'altro giorno a una presentazione. Sì, però quella era bella, parlavamo di sport. Eh, ok. Libro, ragazzi, buon Natale. Roger Federer è esistito davvero di Emanuele Atturo per 66 secondi, mi pare. se la casa editrice, se vi piace Federer, se vi piace il tennis, è un capolavoro quel libro. Io lo presentavo quello, parlavamo di Federer, a un certo punto quando Emanuele gli ho detto ma non è che siamo un po' troppo tecnici? E giustamente mi sono reso conto, ma se sono qui queste 70 persone... Saranno, sai, tutti quanti i tennisti o comunque, insomma, grandi appassionati di tennis. E mi hanno detto, mi hanno fatto notare, soprattutto Alice, che alle presentazioni spesso non è che ci siano proprio 70 persone. Non proprio, diciamo più 7 al massimo. al massimo 7, sono dei colloqui personali fra chi ha scritto il libro e le 7 persone che sono venute a vedere. Però si ride. Molto, quanto si ride, guarda, ti devi tenere la pancia dalle risate, non c'è mai prendersi sul serio, non c'è mai, diciamo, sacralità intorno a quello che hai fatto, non si parla mai tanto del sacrificio che è stato per me scrivere questo libro in cui parlo di questa giovane ragazza africana partita dalla Nigeria che arriva in Italia e si innamora di un professore universitario. Stai parlando della tua storia personale, evidentemente, ed è tutto così. E di questo divorzio durissimo e di questa, diciamo, come dire, questa inculata che prende questo uomo fregato. Grossa inculata. È tutto un libro, il mio jacuzzo, la legge italiana. Ah, posso capirti, posso capirti, Ottavio. Teniamo presente che c'è un problema, cioè, un best seller in Italia, cosa vuol dire? Quante copie vende un best seller oggi in Italia? Credo 5.000. Circa 5.000 copie, signori. Cioè, tipo 1.500 copie oggi sono tante. Vabbè, dai, tante, no, sono pochi, oddio, forse. Diciamo, a 5.000 si stappano le bottiglie di champagne. A 5.000 si stappano. Si stappa la boccia. Ma a 1.500, però, puoi parlare con gli altri autori dall'alto di un pochetto di… Si stappa la boccia e, come si fa, giudamente si scrive il titolo del libro corrispondente Aorega, buongiorno, Damiano Erfaina. Però mi sa che se Damiano Erfaina dovesse droppare un libro… Dovesse droppare un libro? Forse tu non sai che il titolo che ho citato è veramente… È vero? Il titolo del libro di Damiano Erfaina. Aorega, buongiorno, di Damiano Erfaina, Mondadori e Lecta. Ma veramente? Io pensavo fosse una tua battuta. No, non era una battuta. Vediamo, si vede che leggi 12 libri che sai all'anno. Certo, due e soldi Erfaina. Esatto. Aorega, buongiorno. Aorega, buongiorno, libro di Damiano Erfaina, in cui c'è scritto che lui affronta l'ironia e un po' di umorismo i problemi quotidiani, da YouTube all'editoria. Pensa quanto è stato difficile per il suo editor spiegargli… Cioè, tu sei bravissimo dal punto di vista della performance. Ora, metterlo su carta… Uso! Non sarà così facile. Cioè, quell'accendino, tu come pensi di tradurlo? Mi riesco a parlare solo di chi ha infisemi. Non so come fai, però non riesco… Cioè, la frattura temporale… Sì, sì, è perfettamente… Scusate, chi è l'editore del libro? Mondadori. Mondadori. Buonessi… Il mio editore, peraltro. Esatto, no, no, è così, è così. Purtroppo questi libri servono per… Ragazzi, gli instant book esistono, parliamone. 5.000 copie è un bestseller, ma chi compra oggi i libri? Comprano i libri i ragazzini che stanno in fissa con l'idolo teen. Quindi, vediamo un fiorire dei libri, dei vari Ben Jeffede, delle cose, del Faina, dei Taylor Mega, che ha scritto un libro, La bambina non c'è più, che io volevo… Il libro di Ciccio Gamer. Il libro di Ciccio Gamer, ragazzi. Che, qual è il titolo? Come tipo giocare bene a Fortnite. Tipo è quello, tendenzialmente. Non sto scherzando, un tutorial su come giocare bene è arrivato a primo bestseller. La regola numero uno della narrazione è racconta di quello che conosci. Cristo si è fermato a Fortnite. Molto bello. Eh sì, ma adesso farebbe il libro. Quindi Cabilame droppa il book adesso. Certo. Non l'ha già droppato, non l'ha già droppato. Vabbè, pacchia pacissimo. Comunque, Cabilame adesso Tezenis, no? Troppa il libro di Tezenis. In intimo. Un libro in intimo, sì sì sì. Però il suo libro in realtà, cioè, si racconta, immagino, sarà molto interessante. Se sei il numero uno in qualcosa, sei comunque interessante. Sì, ma è un libro di foto? È un'autobiografia? Cioè, nel senso, se il povero Di Maio si è fatto dire da Lily Gruber, come vai? Un'autobiografia a solo i 34 anni? Cioè, figura di Cabilame che cosa gli vuol dire. Lui ha risposto 404, error. Sì, è rimasto. I libri delle tiktoker. Sono tutte autobiografie. I libri delle tiktoker, certo, certo. Vabbè, però sono pieni di foto quei libri lì, eh. No, no, no. Sono anche un po' chiari. Pensieri, pensieri. Eh, l'interline è quella della mia tesi di laurea, intendi. Uno dei più grandi casi letterari degli ultimi anni, che se lo nomini, un'persona che lavora in editoria, gli tremano i polsi, sono i libri, non i libri, di Giulia Delellis. Ah, certo. Il libro... Le corna stanno bene su tutto. È uno, infatti, ne ha fatto. Allora, no, lei ora ne ha fatto un altro. Infatti era da Uomini e Donne a presentarlo l'altro giorno. Ah, fighissimo. Il salotto dove si presenta. Il salotto, le tè, un po' il caffè boimien di Mediaset. Tina Cipollari. L'abbia venduto tipo 100.000 copie. Sì, l'abbia venduto 100.000 copie. Cazzo, ma mi sta tornando in mente che anni fa c'è stato un talent sulla scrittura. Carmelo, posso chiederti se me lo ritiri fuori? Bravissimo. Non con Baricco, credo con De Cataldo. E si chiamava, aspetta, Masterpiece. Bravissimo. Masterpiece, me lo ricordo, era con De Cataldo. Masterpiece, con De Cataldo, che faceva il giudice. Tra l'altro chiediamo scusa a De Cataldo perché l'abbiamo sbagliato. Un refuso, nella puntata non ricordo. Uno dei tanti. Quella, vabbè, insomma, delle serie TV abbiamo detto che il romanzo criminale era di... Caro figlio. E invece ovviamente di De Cataldo. De Cataldo, Massimo De Cataldo, il cantante. Esatto, esattamente. Carmelo con le info dalla sala regia. 2013, Masterpiece, e si vinceva un romanzo edito da Bonpiani in 100.000 copie. Mazza. Ma scusa, cioè... No, che vuol dire? Cioè che Gianni avevano venduto i 100.000 copie? No, la stampa, però mi sembra... Ma che follia è? Se vince uno che ha scritto un romanzo di merda, hai i 100.000 copie e te ne tieni... Scusa, chi ha vinto, Carmelo, per curiosità? Penso che c'è tipo a questi talent... Aspetta, chi? Abbiamo i finalisti, ma non il vincitore su Wikipedia. Ma l'ho chiuso lo shot, l'ho detto. Ma sì, no. Ma so' Cartieri che ha i 100.000 copie. No, pensa se tipo si crea la stessa polemica di Sanremo. Lezione 1, romanzo, titolo, Vita migliore. E di chi è? Nicola Savic. Boh. Centrocampista dell'Atletico Bilbao. No, stavo pensando, è un uscito da amici. Cioè tipo anche lì c'è la polemica. E va bene, però col televoto è normale che questi giovani si apprendono il libro. Cosa c'è di meno spettacolare in tv della narrazione scritta? Della scrittura, della lettura... Il treno arrivò nella pianura in Nevada. Fuori era l'imbrunire i persone... Mancano solo cinque minuti, ragazzi. Forza, mettono la punteggiatura, dai cazzo. Cos'è questo mappazzone qua? Cos'è che hai sbagliato completamente? Dov'è? Ma se te mi fai il protagonista, perché non c'è il narratore oniscente, cazzo? Allora, l'hai messo il punte virgola? L'hai fatta questa cosa? No, maestro, no. Questa cosa è una figura retorica. Io ho voluto mettere un alitote al posto di un asineddo che è maestro. Mi scusi, mi sono ispirato al suo leggenda sul pianista sull'oceano. Mi scusi, io non voglio... La prova è finita e i ragazzi sono molto tesi per il giudizio dei giudici di Masterpiece 2021. Ma tu, raga, però oggi c'è Baricco. A me, io lo so che a Baricco gli piace tanto questa cosa del protagonista oniscente, raga. Io il protagonista oniscente proprio non lo so fare. Io mi ispiro un po' più a Demingway, a Carver. A me piace un po' più il racconto breve. Carmelo, cambiamoli i cavi di questi minchia di microfoni che stiamo a fare Masterpiece qua. Carmelo, no, tu adesso rimari lì dentro la regia, non ti azzardi a venire. I giudici sono Baricco e... Non mi vengono i nomi dei giudici di Masterchef. Sono Baricco, Barbieri e Cannavacciuolo. E Bastianich. E Bastianich. E Bastianich. Non ho capito cosa hai scritto che non capisci un cazzo. Non ho capito cosa cazzo ci hai scritto qui dentro. Tu, ma il protagonista vuoi che muorra? Vabbè, adesso spero che sto citando le robe di cui mi vergogno da solo. Però erano gli anni di Masterchef, quindi Masterpiece, ovviamente, l'idea sarebbe venuta per quello. Cosa c'è di... Cioè, è difficilissimo far raccontare, rendere spettacolo... Cosa c'è di peggio di un talent di scrittori e un talent di comici, per dirne uno. Ogni riferimento ha il mitico eccezionale, veramente... Puramente casuale. Ma anche a LOL, in realtà. No, scherzo. Tu spunti lo sponsor, ragazzi. Lo sponsor che mi paga le giacche... A me lo dire. 5.000 copie, oggi un bestseller. Sapete come si facevano i libri un tempo? Mi l'ha raccontato il mio editor. Praticamente lui, all'epoca, chiamava. A inizio anno, stiamo parlando di anni 90, chiamava Maurizio Costanzo. E gli diceva, Maurizio, quest'anno ho tre persone da mandarti. Uno si chiama AB, l'altro CH, il terzo PF. Ok, va bene. Allora, te li prendo... Vi prendo uno a gennaio, uno a marzo, uno a maggio. Lui attaccava, chiamava i tre scrittori che vi ho detto. Adesso tu ti metti subito a scrivere in un libro. Quelli apparivano da Costanzo e vendevano immediatamente 100.000 copie. Pensa che stress. Pensa che menata. Pensa come funzionava la televisione prima. Pensa quanto funzionava. 100.000 copie. Vendevano 100.000 copie. Ma che disco? No, una volta si leggeva. Ma Falette... Adesso questa è la minchiata che poi commenterete, lo sapete meglio. Ma io uccido? Siamo all'ordine del mezzo milione di copie? Sì, a voglia. Tranquillamente. Ma erano molti di più. Un milione? Ma le ha vendute in tutto il mondo? Io uccido, è un bestseller internazionale. Avevi televisione, avevi libri e musica. Ora ci arriviamo al grande Camilleri. 4.500.000 copie. Capito, 4.500.000 copie. Altro che 500.000 copie. Ma sì, ma l'ha venduta in tutto il mondo. È un thriller tipo Gionesbo. Lui vende a quei livelli. Invece cosa era stato di quella promozione che si faceva fra gli altri anche al Costanzo Show? È rimasto a striscia che nell'angolo finale... E allora, il messaggio promozionale terrario. Oggi abbiamo questa ragazza che viene della Sicilia. 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire. Edito da, non ricordo bene chi chiede scusa all'editore. Compratelo per le vostre figlie. E ora, leveline! Aspetti, signorezio. Se invece ci avete voglia di vedere chiavare una vecchia, abbiamo 50 sfumature di grigio. Noi ne sappiamo bene. Leveline! Ed effettivamente era... Questo era il mondo. Le cose che fanno Tremarido, ma questa faceva veramente ridere. Eh sì, eh sì. E' un bel mondo, era un bel mondo e oggi è così. Ci sono un po' le macerie di quel mondo. Io ho scherzato in modo molto volgare sui due conduttori di striscia e su questo mondo sulla sessualizzazione della donna. Non so perché faccio queste premesse del cazzo. Secondo te, nel mondo dell'editoria, gli uomini sfruttano un po' la posizione qua e là? Beh sì, insomma, direi che l'aura dello scrittore è sempre molto... Quanto fa scopare? Scrivere bene. Scrivere fa scopare molto. Molto. Molto, molto. Quindi scrivere libri belli. Scrivere post lunghi su Facebook, meno. Meno, meno. Beh, ricordiamo anche poi il fascino del lettore. Ricordiamo che la scena bellissima di Prova c'è ancora Sam di Woody Allen, in cui lui valuta quale libro lasciare mezzo aperto perché gli sta arrivando una donna a casa e lui valuta quale libro. Ma chi non l'ha mai fatto? Chi non l'ha mai fatto? Chi non ha lasciato lì un caffchino aperto? Secondo me la risposta più bella ce l'abbiamo dietro il vetro e adesso la chiediamo. Ma voi ragazze, vabbè, l'avete mai fatto di lasciare un libro lì per sedurre un uomo? No, le donne non hanno bisogno di queste bassezze per scopare soltanto gli uomini. Mettiamoci, se avessi dovuto farlo, diciamo, qualche anno fa, che libro avessi scelto? Con le barzolette di Totti, per fare una cosa simpatica. Per empatizzare. Questo pischello romanista mi ha conquistato, c'è questa ragazza che ha letto il libro... Eppure metti open, perché comunque fai vedere che anche tu... Eh, vabbè, il maestro l'olope. Carmelo, hai mai lasciato un libro aperto sul divano prima che arrivasse una pischella a casa per fargli vedere che leggevi... La Bibbia. Allora, involontariamente, bravissimo, in bagno, c'erano la Bibbia, il Corano e il Mein Kampf. La Bibbia, il Corano e il Mein Kampf, è vero, 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 vero. Torio Feltri. Quando sto per ammazzarti puoi scegliere. Che letturina buttare in te. No, in realtà fu dimenticato, erano in bagno. Ah, erano così semplicemente. Ma erano libri che ti regalavano o li avevi comprati tu la bancarella? Ma non lo so, mi faceva ridere che quando fai la cacca puoi aprire a casa delle pagine e quello è il migliore. Pensa che confusione quando esci da quel cesso. E tu, Edo? La Germania che ho in mente sono le Galilei. In quell'epoca lui andò e incontrò il profeta Giovanni. Insya Allah. E tu l'hai mai fatto? Io regalavo i 49 racconti, per rimorchiare, regalavo i 49 racconti di Hemingway. Che palle poi, è proprio un mattone. Ma quale mattone? Ma cosa cazzo? Molto da uomo. Molto da uomo Hemingway. Adesso quindi Hemingway è molto da uomo. Sì, secondo me sì. Un uomo nato alla fine dell'Ottocento che parla solo di caccia, mare, pesca e guerra? Vi sembra questo uomo? È un po' da maschio. Ecco, allora apriamo infatti questo topic. Tra l'altro cancelliamo Hemingway perché va cancellato. Quello che ha fatto è stato veramente terrificante. Sì, sì, sì. Cancelliamo anche Hemingway. Buona idea. Carmelo? Però vorrei consigliare a chi ha il debole per le donne dell'Est di prendere la metro con Il Maestro e Margherita. Ah, vabbè, di Bulgakov. Perché molte ragazze che hanno fatto parte della loro vita, ad esempio in Ucraina, ti verranno a dire, ah ma tu conosci questo libro. Ora però vorremmo sentire l'aneddoto che segue questa simpatica premessa. C'è un po' di 60 anni che andava verso... A Furio Camillo. Esatto. Carmelo lo chiamano Erburgakov da metro C. Carmelo si mette su... C'è una borsa piena soltanto di Maestro e Margherita che lui si mette a leggere e che lascia aperto sul vagone della metro. Quals'un numero, se cerchi i cazzi lunghi da giucciare, come negli autogrill. Però se il Maestro e Margherita riesce a stare a dire, sì pronto, sono signora, volevo sapere se lei è vecchio o vuole lavorare. Ma no, io ho lasciato il sul... Sto pensando su... No, io sono libri di sport in casa, quindi c'è... Soltanto libri di sport. No, tu l'hai fatto con me. Ti ho regalato un libro. No, no, a parte mi hai regalato un libro che è un bellissimo libro che ho sposato un comunista e giustamente a me cosa mi regali. No, mi ha lasciato a casa, nel suo divano, la sceneggiatura di Divorzio all'Italiana dicendo guarda io ho questo, che era tipo un'edizione speciale. Mamma mia, perché sapevo che eri appassionata. Avanzo nel centro sperimentale, bravo. Eri appassionata. Gran mossa. Tanto gran mossa. La prima sera? No, però le prime volte comunque... Ok, perfetto. E tu che hai pensato? Io me lo sono letto e ho detto bello. Siccome sapevo che mi piaceva la commedia dell'Italiana, lui... Ho detto, senti, non c'è l'acqua calda, non c'è il frigo, però... Guarda che bella questa sceneggiatura. Buon divertimento. No, beh, è una mossa che si fa. E invece, altra grande, si parla tanto dell'editoria, ma quale luogo è migliore? E, cioè, non puoi batterlo. Il Water Clothes, per leggere un momento. Ah, i libri d'accesso. I libri d'accesso. Quali sono i tuoi libri d'accesso? L'autobiografia dei NoFX, l'ho letta tutta sul cesso. Altri libri d'accesso, le autobiografie... Sì, guarda, in generale io tipo le autobiografie dei musicisti, quelle mega d'accesso. Io è uguale con lo sport. Eh, vede. Più di Dave Grohl ti stai leggendo. Dave Grohl, grande libro d'accesso. Bruno Vespa è molto d'accesso. Bruno Vespa, però, ragazzi, ma chi è che acquista? Chi è che acquista? Uno degli otto libri all'anno di Bruno Vespa. Sta sempre a scrivere Bruno Vespa, eh? Ma sicuro non c'è un ghostwriter. Doviamo a vener Dostoyevsky di Raiuno. Sicuro non c'è un... No, non credo proprio che ci sia qualcuno, qualche ragazzo sottopagato che scrive questi libri. A Natale forse è il libro che vende di più in Italia. Io avevo una zia di destra, un po' fascista anche, che ogni anno mi regalava il libro di Bruno Vespa. Quindi io c'ho tutto quanto... E a volte anche tipo L'uomo della provvidenza, di Enrico Petà. Questi libri velatamente fascisti. Quindi c'ho tutto quanto uno scaffale a casa vecchia con questi libri. Cioè, che se uno entra e dice, beh, questa è la biblioteca di Goebbels. Manca soltanto il main camp nel cesso di Carmelo. Chi è che regala i libri di Vespa? Chi li regala i libri di Vespa? È il regalo che si fa a... Le zie distratte. A le zie distratte, sì. Che cazzo le leggi? No, ma regalarli può regalarli. Guarda, quest'ultimo è molto bello. Sì, ma di cosa parla, zia? Molto bello. Questo è De Brodin, Berlusconi, D'Alemma, poi sono tutti uguali. Ma sempre uguali. No, poi lui secondo me c'ha un pattern, praticamente. Cioè, cambia soltanto i nomi. E ogni quattro ne fa uno su Mussolini che comunque... Sì, che comunque è elaborato del Corriere della Sera, gli risale un po' arcane. Cioè, comunque va in libreria e saluta il libraio così. A noi! Però è piccolo inciso, si parla di Dave Grohl. E così è stato bellissimo quando noi siamo andati a vedere la partita Roma-Inter sabato. La Roma fa una selezione musicale nel pre-partita che sembra fatta da Edoardo Ferraro. Madonna mia. Hanno messo in fila, Blink 182. Temo sia stata l'unica cosa bella di quella partita, temo. Però veramente... Cazzo, quando eravamo sotto la tua curva, maledetto, e abbiamo sentito... Però Edo che faceva airbending... Sì, sarebbe che stavo lì che tenevo i quarti. E hanno messo in fila Learn to Fly dei Foo Fighters, All the Small Things dei Blink, e poi hanno messo comunque altre cose che avrei tranquillamente scelto. Per i radocci di Peppers. Esatto, i radocci di Peppers. Oh my God, that's me! That's like my typical music. Sappiamo che le donne non vanno in bagno, non stanno tante in bagno. Ma quando ci stanno per farsi i fatti d'oro, cosa si legge in bagno? Libri d'accesso per le donne? No, io non leggo libri al cesso, ma riviste. Esatto. O dove, fumetti. Dove, cioè i viaggi, paesaggi bellissimi. Ah no, io invece di Landog. Ah ecco, è una scelta anche quella. Io mi sfondo di io, donna, al mare, d'estate, casa al mare. Bello, quando vai da nonna, che bello. E quanto mi girano i coglioni quando giro e trovo di buccia di banana già il look buono. Invece prima devo vedere quelli fatti. Come si chiama? Mi vai di traverso la cagata, è un disastro per tutta l'estate. Giussi Ferré. Tocco di classe. Tocco bravo. Buccia di banana e tocco di classe. Giussi Ferré. No, Giussi Ferré è la canzone. Giussi Ferré. Giussi Ferré. Giussi Ferré. Però anche quando vai a casa di nonna e trovi tutti i chi. No, no, esatto. C'è i chi, i gente delle più e ti fai in quattro minuti, ti ripassi tutta l'estate. Bellissimo. In casa di nonna. C'è sempre il blocco su Padre Pio, su queste riviste. Sempre, sempre il blocco di Padre Pio. Bellissimo come se facciamo un percorso nell'editoria, si parla dell'impegno, le cose difficili. Adesso su chi tutti i trassognanti. Vabbè, ovviamente, ragazzi. Perché leggere è anche impegnativo. Certo. È anche molto difficile. Qua c'era anche un bello spunto. Quando invitano gli scrittori al TG5 e non hanno tempo di parlare. A proposito di chi gente Alfonso Signorining ha spinto il modo in cui si parla di libri a media sette o tre. E oggi abbiamo qui uno che ha scritto un libro che fa degli ebrei. Che ci vuoi dire? Gli ebrei? Grazie, arrivederci. Passiamo adesso a Velone con Ezio Greggio e Ezio Iacchetti. Invece su Rai 3. Dopo chiamano l'autore e gli dice, ma guarda, non l'ho intervistato neanche qua. Adesso speriamo che mi vada bene a Rai 1 di nuovo. Vai. Vai a Rai 1, presentami. Oggi abbiamo qui Leonardo Cassertosi. Buonasera. Scrittore. Ebreo. Questo lo ha detto lei. Cita fra le sue influenze Alessandro Piperno. Certamente. Quali altre sono le sue influenze? Quelle che lei non ricorda. Tipo, per esempio, un Philip Roth. Philip Roth, Philip Roth. Lo regalai a mia figlia un libro di Philip Roth. Senta, di cosa parla questa sua ultima fatica letteraria? È un viaggio ritroso all'interno dei ricordi di una famiglia ebraica nella provincia di Cuneo. È un libro molto interessante. Cuneo, Cuneo, si diceva. Si diceva Cuneo. E poi finisce. Ci ho fatto il militare a Cuneo, pensi. Ma questo che programma era? Amadeus, come i soliti ignoti. Restate con noi, Rai 1. Era anche Amadeus. Allora, la signora fa il lampadario. E a proposito del signore che fa il lampadario. A Natale si regalano anche un altro tipo di regalo che va tanto in moda. E dove c'è una guerra, proprio come fra gli Avengers con quell'altro che c'è i cinque anelli umani, i sette anelli umani. I libri di cucina. Ah, ragazzi, ragazzi. I veri libri che vendono sono i libri di cucina. E c'è una faida in Italia. Fra due Benedette. La guerra delle due Benedette. Peraltro chiediamo scusa a Benedetta Rossi. La bella chiediamo scusa a Benedetta Rossi. Non è Umbra, non hai letto i commenti. Ce se so bevuti. Ce se so bevuti. Ma lo so, scherzo, scherzo. Sono Benedetta Rossi, orgoglio delle marche. E Benedetta Parodi. Ma guarda che c'è pure là che si infila ancora a clerici. Beh, è vero. Ah, è vero. Eh, lo so. E la clerici è un po'. Antonellina. La clerici è un po' la Linux dei sistemi. È la terza camera. Io sono un parodiano di ferro, però. Noi siamo parodiani di ferro. Non c'è neanche bisogno di dirlo. Cashmere è Parodi. Cashmere è Parodi, ragazzi. A noi non interessa se vendi di più, se fai altri numeri. Noi moriremo parodiani. Nati parodiani. Nati parodiani. Moriremo parodiani, assolutamente. Libri di cucina stravenduti in Italia. Che poi uno dice c'è YouTube? No, perché invece è importante vedere Benedetta Rossi che te fa vedere proprio come fa la pasta. No, no, poi c'è anche tutti gli ingredienti, i passaggi scritti. Libri di QR code, in realtà. Eh, infatti, con QR code è tutto abbastanza facile, infatti. È vero. In realtà non amo queste persone che si improvvisano esperti della cucina, perché basterebbe una piccola ricerca per capire che si dice spolverare, non spolverizzare. Ogni volta che sento questa parola capisco che non hanno studiato le basi della tecnica della cucina. Perché il maestro ha fatto l'alberghiero, però io spolverizzare non l'ho mai sentito. Invece l'ho sentito dire da tutti quelli che avete nominato. Cosa che si spolverizza? Tipo lo zucchero a velo o no? Quando devi, insomma, passare velocemente con le dita una polvere, una cosa a granelli sopra ad un piatto. Ah, c'è tipo il pizzico di così. Esatto. Quella cosa. Ah, si dice spolverare. Del salt bay. Esatto, quella roba lì. Va bene, va bene, va bene. Diremo spolverare in questo caso. Senti, ma questi libri non hanno bisogno di vendersi perché si vendono da soli. Invece alle fiere, tipo più libri, più liberi, ne parlavamo prima, ci sono tanti stand, tanti tipi di libri. Ma, oh, sempre in grande difficoltà è lo stand del libro, diciamo, non proprio schierato, come dire, verso il mondo della cultura, dell'amore, dell'accoglienza. Diciamo un po' più schierato dall'altra parte. Lo stand del libro, per esempio, della Meloni, l'altro giorno, com'era? L'altro giorno io mi sono fatto un giro tra tutti gli stand e c'era un casino incredibile anche perché c'era Zero Calcare, quindi un botto di gente. L'unico stand deserto era quello della casa editrice di Giorgia Meloni. Cioè, col che ha pubblicato il libro di Giorgia Meloni. Però ha venduto il libro suo, no? Sì, avrà venduto un botto. Sì, è che è calato in un contesto proprio iperiterale. Ma chi cazzo gliene frega a gente di andare a vedere? Con il libro vi regalavamo un manganello, va bene. In omaggio, un manganello, Carmelo, cosa ci vuoi dire? Che Edoardo potresti riceverlo per Natale da tua zia, quindi non parlare. Che bello qua, quanto mi piacerebbe, se hai smesso. Sono un po' di anni che non mi riesco più. Grande Assente, so che so io il giovane, quindi tocca che so io che lo dico. Grande Assente forse ai fumetti. No, ci arriviamo. Vabbè, a questo punto parliamo adesso. No, volevo solo immaginare così. Piccola puntualizzazione. Piccola puntualizzazione che non deve essere facile quando si organizza la fiera del libro, cose così. Quando sai che arriva lo stand legato molto alla destra. Ricordi c'era stata quella mega polemica. No, quando? Salone del libro a Torino. Ah, sono il libro a Torino, certo, che hanno escluso la casa editrice che pubblicava il libro di Casa Pound. Altamura si chiamava? Forse sì. No, qualcosa del genere. Una cosa del genere, comunque sì. Oh, sì, sbagli qua, hai sbagliato per sempre. Ma tu stai salutando il nostro pane. Magari erasi tipo, facciamo il pane e i libri per i fascisti. Il pane e i libri per i fascisti. E la morte sua. Il pane, il sudore della fronte. Beh, quello deve essere il tempo. Poi c'è qualcuno sempre che accetta, poi accetta di avere lo stand. C'è il festival che accetta i libri dei fascisti e che sono però gli stand sempre deserti. Non mi è mai capitato di vedere tutti i fasci col bomber, gli avieto orneri che sono lì ad ascoltare il libro. San Lust intervista Palamara. Mi fanno impazzire. Perché a me piace sentirlo nell'audiolibro, mi metto tranquillo. Mi metto tranquillo così, me lo sento quando sono con le mie figlie, quando io vado a prendere all'asilo. Mi piace sentire l'uomo della provvidenza di Enrico Petacco. Non attirà l'acqua però sui libri degli altri, a quello che ricordi. Bravo, ti ricordi un bellissimo... Non era acqua, era Coca-Cola. Era Coca-Cola, Coca-Cola. Sì, perché anni fa... A Luca Comics. Era peraltro Daniele Fabri che subì un attacco, sì, un atto vandalico. Arrivarono dei fascisti. Dei fascisti, uno dei quali era fratello di Di Stefano mi pare. Mi sa di sì. Parente di Di Stefano. Che rovesciarono come atto grande, come un attacco molto forte, vehemente, da bicchiere di plastica e rovesciarono qualche goccia di Coca-Cola sui libri di Daniele Fabri. E furono scacciati dai gestori dello stand, non proprio due soldati dell'Unione Sovietica col moschetto, non so che cazzo, ma erano due ragazzi dello stand di Luca Comics, un po' Sì, sì, sì. Diciamo, fuori forma. Fuori forma, sì, esatto. E venivano comunque cacciati. E non mi ricordo quale comico fece un pezzo su questa cosa, dicendo se i fascisti di oggi hanno paura di quelli dello stand di Luca Comics... Siamo il fascismo. Forse è anche un aneddoto che racconta Valerio Lundini, ma credo riportando parola di Matteo Tiberia, che si immagina questo fascista che fa questo gesto in cui si avvicina allo stand e poi in questa cocola fa tipo... Ops! Fa cadere... Ops! Sì, che non è andato, diciamo, a ribaltare. No, no, no. Ha fatto questo gesto di grande paura e spavento. Stiamo arrivando... Purtroppo ci stiamo per avvicinare al momento dei grandi classici. I maledetti grandi classici del fottuto liceo. amico. Allora, vogliamo provare a fare il testo? Tu che l'hai fatto, scusami, non mi ricordo mai. Io ho fatto l'avvocadro di staccata. Allora, forza. Vai. Ci confrontiamo. Vai. Vediamo se abbiamo letto tutti i classici che andrebbero letti al liceo, vero Tahir? E proviamo a fare una recensione. Partiamo con un po' la divina commedia del liceo che è Siddhartha di Herman S. Letto. Letto e ricordo benissimo il mio amico Adriano Candiago che entrando in casa vide Siddhartha appoggiato sul divano e fa ancora la presa umana e ha detto, chi è l'infelice che sta leggendo questa meraviglia? Che meraviglia. Sono io, sono io. Io Siddhartha non l'ho letto al liceo, non l'ho mai letto. Poi, quando siamo andati in India, un anno, 2015, ero lì e mi ricordo erano figli, non c'era ancora il Kindle e ho detto, oh, sono in India, me leggo sto cazzo di Siddhartha. Quindi mi compro Siddhartha in inglese, l'ho letto nel treno andando verso Bangalore. Perché l'hai fatto con la voce di Damian Erfaina? Adesso mi leggo Siddhartha perché è un principe indiano che si è spogliato di tutte le sue ricchezze. E ho letto questo libro e sono quei libri che ti arricchiscono tantissimo quando li leggi, nella mezz'ora in cui li leggi, poi arrivi in albergo, dov'è il bidet? Abbiamo un bidet pulito? Mi guardate qualcuno che pulisce il bidet? È un classico dei libri di filosofia orientale che li leggi e dici, questo è una cosa incredibile che abbiamo mai letto nella mia vita e sai cosa, non si sposa minimamente con la mia vita di tutti i giorni, proprio lo leggi e dici, incredibile, e impazzisci di nuovo. Il Cavaliere della Luce, queste sono tutte quelle cose che leggono... Come si chiama, ignorante, il respiro dell'arco, lo zen, scrivetelo sotto. Voi l'avete letto, Siddhartha? Io l'ho letto ma non al liceo, prima di andare in India, mi ricordo benissimo quando tu l'hai letto. Prima di andare in India? Sì, no, no, ma l'avevo letto anni... Ah, ok, anni prima. Io non hai vent'anni, ventun'anni, sai quelle cose, ma non si legge l'età. Ma ti ho detto, c'è il giacchetto da gara, perché ti importa? Mi ha fatto ridere come Cecilia ha detto, mi ricordo benissimo quando l'hai letto, tu mette che era il segnale in codice in India per dire il bagno, ora... No, no, me lo ricordo benissimo perché eravamo in treno e io gli ho fatto delle foto, perché sembrava veramente... C'era questo coglione che... Era veramente una codita a scalico. E gli hai scritto, con queste ora ci scopri. Esatto. No, ma io volevo fare proprio la cosa di Tascalo, l'ho comprata apposta come atto di ribellione. Andiamo ad aiutare un po' Tahir, il gabbiano Jonathan Livingston, almeno il gabbiano... Ma che cazzo è, Enrico? Vedete Siddhartha pure pure, però lo sai che io c'avevo nel nostro gruppo, c'era questo ragazzo che si leggia tutti sti libri per scopare e non scopava ed era il più coglione del gruppo, quindi non ci attirava molto a noi. Qualcosa vorrà pur dire la sua statistica? Per sillogismi hai detto, aspetta, è tutto chiaro, se leggi non scopi e sei sfigato. Eri alla Biblioteca Nazionale e hai messo una bomba e... Carmelo, scusami, gabbiano Jonathan Livingston? No, in realtà Herman Es, è uno dei pochi che mi ha fatto finire dei romanzi, perché di solito li lascio dopo 20 pagine. Però devo dire che Siddhartha è stato quello che mi è piaciuto meno, il lupo della steppa e i racconti brevi. D'amburo di atta, queste cose. Oddio, io mi sono fermato a Siddhartha, colpevolmente. No, Marcizo e Boccadoro. E un racconto breve per chi vuole iniziare, Damian, è quello che mi ha fatto innamorare di essere. E poi con queste andavi a scopare sulla S-Ban a Berlino, li aprivi? Ma in realtà... Io ho letto Percy Jackson al liceo. Percy Jackson? Al liceo che non l'ho fatto. Che non l'hai fatto? A Caivano. Quando sono a casa, quei due giorni che non ho avuto internet... Harry Potter sì. Quei due giorni che non ho avuto internet mi sono sparato tutta la sacca di Percy Jackson, che avevo stranamente... Mai letto io Percy Jackson? Né anch'io. Percy Jackson? Niente. Il vecchio e il mare, per tornare al nostro amico Hemingway. Letto ovviamente al liceo. Due palle clamorose. Bellissimo, bellissimo, però non... Io alle medie lo ce l'ho fatto. Forza alle medie. Tutti questi che ho nominato, tutti alle medie li ho letti. Però quanto è bello che il cervello dimentichi tutto. No dai, mazza. No, a te non ti fa cacare Hemingway. Ragazzi, ma sono l'unico. Allora, chi è che ci aveva raccontato che avevano fatto un esperimento interessante in una classe di elementari? Avevano detto ai maschi di leggere il libro in assoluto più da femmine. Sì. E alle femmine leggere il libro in assoluto più da maschi. Gli hanno fatto leggere un libro di Joseph Conrad alle femmine e un libro di Jane Austen ai maschi. Sì. Parte con una cosa mega cisgender. Sì, super cisgender. Non so se devo più fare questa cosa, se mi sente Damiano. Però... Per Faina, ovviamente. Esatto. No, il Damiano che sta a Las Vegas. Però effettivamente sì, è una scrittura molto boh, maschile, non sono d'accordo. Non so. A me è piaciuto tanto Madame Bovary. Anche a me è piaciuto tantissimo Madame Bovary. A voi Jane Austen avete mai letto? Ancora? Questa campagna di Cecilia. Leggetela! Non l'ho mai letta. Non l'ho mai letta di dire, aspetta, tutte biografie, aspetta. Orgoglio e pregiudizio. Però se leggiamo Orgoglio e pregiudizio capiamo le donne. Tu sei super un tipo da Jane Austen. Però capiamo le donne. È la volta buona che capiamo le donne, Lu. Ma il libro che piace solo le donne... Un'altra volta devo capirla. Un'altra volta. Il libro che piace solo le donne e che viene nominato più spesso è Il Piccolo Principe. No, non è vero. Quello è un trauma sociale, vuoi dire. Non è un libro. È un libro per bambini. È un libro per bambini che spesso è l'ultimo libro che un sacco di gente ha letto. Ma sì, c'è questo il problema. Prenderlo sul serio è come se fosse un libro per adulti. In realtà è una bellissima favola per bambini. Il grande classico è... Ma lui morì in un incidente aereo, vero? Il grande classico fra studenti fuori sede. Immagina 24-25 anni dopo che si è fatto l'amore. C'è il tatuaggio di... C'è il tatuaggio di Piccolo Principe. Guarda, ce l'ho io. Ma allora capito che non è un cappello, ma che è un po' che si è mangiato nelle fane. E lì ti fai la seconda. Esatto. Giustamente. Scusate una cosa, il primo libro letto dell'infanzia proprio. Letto da me o letto dai genitori? No, da te. Letto autonomamente. Io ho abbandonato Gian Burrasca nel 1995. I miei non sono resi conto che il tempo era un po' passato. Mi sa il Piccolo Principe. Mi sa proprio il Piccolo Principe. Io l'Isola del Tesoro. Bello. Ah, va beh, certo. Ah, è tipo Robinson Crusoe. Tutto il filone Robinson Crusoe. Robinson Crusoe tu l'hai mai coperto, Dair? No, c'è solo un Robinson che rispetto io. Ah, famiglia Robinson. Ah, famiglia Robinson. Se non stupra non è vero. Non lo leggo. Ma la gabbianella è il gatto? Non l'avete letta? No. La gabbianella è il gatto che le insegno a volare. No, no, no. Sì, è una gabbianella del gatto che le insegno a volare. Il grande Luis Sepulveda, morto per Covid. Sì, morto per Covid. Siamo sicuri che non era... No, si era Sepulveda. Sì, si era Sepulveda. Non era Gabri Garcia Marquez. Cent'anni di gabbianella. Tendo a confondere Sepulveda. Gabri Garcia Marquez e l'altro. Madame Bovary. Madame Bovary è il capolavoro totale della storia. Il più grande cliffhanger della storia della letteratura. E fu così che lei rimase incinta. Cosa? No, bellissimo. Quello è un libro meraviglioso. Riletto qualche anno fa, tra l'altro. E lo consigliamo a tutti. Madame Bovary. Bellissimo. Anna Karenina? Mai letto purtroppo. No, però l'altro giorno abbiamo rifatto la trama di Anna Karenina in casa, però col gatto di Alice. Perché ho detto, per il mio gatto ci vorrebbe proprio un bel colbacchino. E quindi ci ho immaginato. Ah, ecco uno dei primi libri che ho letto. Tre uomini in barca. Tre uomini in barca. Jerome K. Jerome. Jerome, sì. Grande passione di mio padre. Pensieri oziosi di un ozioso? No, questo non lo metto. Sono tutti libri che piacciono ai nonni e dicono questo fa troppo ridere. E poi legge che faceva ridere il nonno nel 41. Che comunque l'avrebbe fatto ridere anche la Bibbia in quel momento. Sì, sì, sì. I ginocchi della lavandiera. Ah, è vero. Sono tutti malanni. Ma immaginari. Avremmo potuto invitare? Geppi Cucciari. Come cazzo si chiama? Cucciari. Perché quello faceva per un pugno di libri. Ah, per un pugno di libri? Come no? Anche ne rimaravano. Corrado Augias è il king dei libri in tv. Ma noi lo sappiamo che tu c'hai un demico. Per il professore che l'avresti aiutato a pagare le bollette dell'Eni. Che gli arriva a scammigeria. Professore, si fermi. Sono io la principessa nigeria. Se per me sono io la regnante. Ma e il partigiano Johnny? Mai letto. No, non ho mai letto. Eh, non l'ho mai letto. Non l'ho mai letto. Quello, che non l'ho mai letto. Vabbè, l'amico ritrovato? Certo. Fred Ullman. Quello è un grande libro. Quello alle medie però si legge. Quello si legge alle medie. Qualcuno con cui correre. Eh, bello. Glassman. No, mai letto. No, anche io. Il Gatto Pardo? Certo. Primo vero romanzo. Mai letto. Quanti libri ci stiamo dimenticando? Scrivetecelo nei commenti. Scrivetecelo sotto. Scrivetecelo sotto. Scrivetelo sotto. Scrivetelo sotto. E proviamo anche a fare nuove trame. Nuove trame dei grandi classici. Cioè, per esempio, Siddhartha è un novello Renatino. Cioè, se tu pensi, Renatino è questo fattore, questo casaro che decide di spogliarsi. È un operaio di fatto Renatino. È un operaio Renatino. È un impiegato. Perché a te piace il caseario? Il casaro è un caseario che decide di spogliarsi di tutti i beni più frivoli della società occidentale. Quindi andare al mare, andare a Parigi, sciare, così, bene di prima necessità. Sesso non è pervenuto. Mai, mai. Sesso mai pervenuto, niente. Per sposare la causa del parmigiano reggiano. Che è un po' il nirvana se nasci in provincia di Reggio. Di Parma, certo. Il vecchio il mare potrebbe essere Montesano che fugge per il super green pass. Si imbarca. L'ha detto uno. Leggi, leggi. Non questo, quello dopo. Madame Bovary e Michela Giraud. Vabbè, secondo me è la nuova Madame Bovary. Ci sta, ci sta. Ci sta. E mi faceva ridere che il gatto pardo è Tahir Roussein, invece. Bellissimo. Tahir a un certo punto raggiunge 10 milioni di follower su Instagram, però poi fra 30 anni Instagram non esiste più. E quindi se attento. Tra 30 anni sto. Come i privilegi della monarchia. Ma anche i vermi che me se sono magnati esisteranno più. Cambiare tutto perché nulla cambi. Questo vogliono i siciliani. Dormire. E allora dormano. Carmelo? Non me ne leggero il gatto pardo. Voglio triggerare Tahir perché è un grande esperto della coscienza di Zeno. No, no, no. Attenzione. Vieni fuori questa cosa. Non dire che Tahir ha letto un libro che si vergogna. Dai. No, no, no. Carmelo, non so come... Non so come cazzo fa Carmelo a sapere questa roba. Cioè? Perché mi sa che era la mia tesi, era. La tesina? Ah, ma forse ce l'hai raccontato nel Summer Tour. Non penso di averlo detto. Cioè la tua tesi... Carmelo, chi cazzo conosci giù? Madonna mia, queste sono quelle cose che sa Carmelo inquietantissime. Ma io sa che l'avevo detto... Come mai ti piace così tanto la coscienza di Zeno? Ma non mi piace per un cazzo, ma l'hanno solo dato da copiare. Ma puoi dire che ti piace. Non è come quelle cose di... Io non sono innamorato di quella piscuella. Non lo puoi dire. Stiamo dentro a Scoprendo Forrester. Non l'ho letta. Non l'hai letta. Attenzione, se lo ricordate, è il rapporto con il padre che finisce anche con lo scaffo. No, però Tahir magari viene anche toccato su delle corde un po' personali. Il fumo. Eh, il fumo per esempio. L'amante. L'amante. Il suicidio. Il kebab. La psichiatria. L'amante è stata che fa tanti quanti, ma nessuno di voi ha mai letto Berserk. Ha mai letto... Eh, allora che... Berserk che cos'è? Illuminaci, scusa. No, Berserk è un'opera, un po' uraccio. È fumettane. È morto poco tempo fa. È morto recentemente. Ah, ho capito. È il fumettane. Chiedo scusa. È il fumettane. Eh? Fumetti, fumetti sono. Sì, sì. Fumetto. Fumettane. Come lo definiamo noi? Voi chi? Noi che leggiamo lettere anche senza disegni. Senza le figure, no? Beh, sono buoni. Chi è per te il più grande? Allora, bentornati adesso a questo programma di approfondimento del Rai, dove confrontiamo le vecchie e le nuove generazioni. Allora, quest'oggi qui a Colpo Doppio, che è la versione, come si chiama? Quello che ci piace tanto, di Match? Match. Colpo Doppio. Un'arbasino. Abbiamo allora un Edoardo Ferraris, che è stato per anni direttore esecutivo e un amico Buonasera, buonasera. Feltrinelli, Mondadori, tutti. Tutti li ho coperti, tutti. E adesso a parlare con il commesso di GameStop, fumetti e fumetterie. Non vedono fumetti a GameStop. Da fumettoni, cartuneschi, è un ragazzo che abbiamo trovato gentilmente. La casa del fumetto. Esatto. La casa del fumetto. Allora, abbiamo il nostro pubblico di giovani studentesse del Dams di Bologna e anche il nostro esperto Mattacchione. confronto definitivo letteratura contro fumetti. Andiamo, prima parola a Edoardo. Ma personalmente il fumetto è in fondo, cos'è il fumetto se non un romanzo al quale vengono date le immagini. Ogni romanziere è anche un pittore, ma nel caso del manga, ad esempio, che è una cosa nobilissima, io trovo il manga, è una cosa straordinaria, viene dato corpo. Ecco, andiamo allora a sentire. Allora, il manga sì, ma l'entai. Andiamo subito. L'entai sono quelli con quelle signore giapponesi, con delle minne incomprensibili. Non mi sai dire l'entai. Ecco, raccontaci che tu sei un osservatore metropolitano, che fa una CEI in quella zona lì di tutti i fumetti, quei negozi. Ah, guarda. Che ragazzi sono? Ragazzi e ragazze. Sono ragazzi e ragazze e i capelli più puliti li hanno puliti quattro mesi fa, devo dire la verità, e poi mi verrò ucciso per questa cosa che ho detto. Non bumeriamo, non bumeriamo. Una volta era così, adesso... Nei negozi di fumetti ci va la futura classe dirigente. Allora, ormai siamo al finale di colpo a colpo. Dignità per la graphic novel sì o no? Dignità sì, completamente, completamente. Dignità per la graphic novel sì o no? La risposta del nostro commesso. Ma dipende, ma... Ah, me li provoca, provoca perché? Ma come anche per i fumetti, i manga, tutto. Akira? Dipende. Eh, Akira, porco... Ma non è una graphic novel. Sto cercando Ranma Mezzo. Sto cercando dei nomi dentro il cervello. Akira, Akira. Ah, Ranma Mezzo. Ranma Mezzo. Golden Boy. Tu hai mai letto? Hai mai letto i manga? No, mai. No, no, aspetta, no. Kenshiro. Ma te lo comprai proprio Kenshiro manga? Ma che me lo portava Verona Icapagni, compagna degli elementari che viveva in Via Orti. Che salutiamo. Che salutiamo. E però è una parola per ragazze, graphic novel sì o no? Sì, sì. Però non sono una grande appassionata, però sì. Sì, anche Umberto Eco, no? Ha sdoganato il fumetto come genere dignitoso, quindi... Sì, però l'abbiamo fatto nel 64, qualche anno fa rispetto a prima che noi facessimo questa boomerata che abbiamo appena fatto. Eh, ma questo era un confronto reale, cioè nel senso io ne so talmente poco che era bello fare il conduttore. Però è vero che c'è ancora un sacco di diffidenza intorno al fumetto. E sono rimasto ai fotoromanzi. Figuriamoci, Carmelo. Grand hotel, Carmelo. Vabbè, qual è un libro che però vi ha cambiato la vita quando l'avete letto? Beh, sicuramente Lamento di Portnoy di Philip Roth. Cioè, proprio cambiata. Letto a New York, a 17 anni, stavo a Brooklyn con due amici, ci sfondavamo di erba e birre, fatte comprare i barboni. Era bellissimo, leggevo questo libro di questo ebreo che racconta, all'opera allora, scandalosissima, mi pare sia del 67-69. E mi fa l'autonarrazione, io l'idea di raccontarsi, ho preso più da lì che da altre cose. Che da altre. Quel libro. A te? Forse Adenoidi di Daniele Luttazzi. Sì. Che io comprai, sì, una bancarella a Piazza della Balduina e tornai a casa e mi ricordo che ridevo con le lacrime, avevo tipo 13 anni, ridevo con le lacrime perché non mi sembrava possibile che si potesse scrivere roba così. Poi anni dopo ho comprato i tre libri di Bonpiani, i libri di Woody Allen, i primi libri che avevano alcuni racconti comici e ho scoperto che tipo il 97% della roba era presa para para da quei libri lì. Però mi ha fatto conoscere Woody Allen, Daniele Luttazzi, di questo sono ben felice. Ci saranno state ovviamente anche cose sui libri, però mi ricordo tante cose, erano proprio identiche. Un paragone che io sono sicuro di averlo detto anni fa, so che Saverio e Raimondo anche l'ha detto anni fa, lui Luttazzi è stato un po' la Fernanda Pivano della comicità della stand-up comedy, è vero, è verissimo. Da un certo punto di vista, grazie. È vero, infatti a me da quel libro lì mi è venuta poi voglia di iniziare a scrivere cose che facessero ridere e quindi ognuno è il suo. Non possiamo fare questa domanda anche agli altri ospiti di questo salotto letterario. Allora, lei Cecilia, il libro che ti ha cambiata, per esempio? Probabilmente Anna Karenina e Guerra e Pace, quindi Tolstoi, proprio russi. Vedi, mia moglie piace la letteratura russa, è sposata per questo. Io delitto e castigo, infatti. Alle donne piacciono i russi, abbiamo sbagliato tutto lui. Che stupidi che segui. Che sciocchi che siamo noi con i nostri Hemingway. Dovevamo andare più a destra, con una cortina di ferro. Sei che invece alle donne cubane non piacciono per niente, mi piace la salsa, un'altra cosa. Carmelo, il libro che ti ha cambiato per sempre? In meglio o in peggio? Interessante, prima in meglio. No, guarda, in realtà ogni libro un po' mi cambia, però diciamo che i testi scientifici ti cambiano molto di più di un romanzo, sicuramente. Ti ha cambiato. I testi scientifici, vabbè, dice un titolo così. E che ne so. Bomo, chilo e chilo. No, sono dei testi scientifici, quindi dei testi universitari, quelli sicuramente ti cambiano, sei una persona nuova dopo che li hai letti. I romanzi non sono riusciti. E me lo leggo, meno te mette, diciamo. I romanzi sì, ho grandi difficoltà, li abbandono. Abbandoni? Abbandoni i libri? Sì, soprattutto perché la mia filosofia è quella che i libri devono essere regalati, secondo me. Quindi aspetto che mi vengano regalati, ma ci indovinano poco. Ma come aspetti che vengano regalati? Scusa, invece è bello comprarsi. E con quale criterio? Leggi su Google oppure dalla copertina? Ah, leggi, boh, sì, consigliate, cose consigliate. Volumi di critica letteraria che indirizzano. Volumi di critica letteraria? Ma sì, ma certo. No, in questo modo non riesco, no? Tahir? A me è Harry Potter 2, quando imbocca il padre di Drago. Ah, 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 no, spoiler, no, spoiler. Luca! Scherz, scherz, scherz. Abbiamo parlato, non è? Abbiamo parlato del padre di Drago, io l'ho detto, oh, voglio diventare ricco e spocchioso come questo. Ma, vedi? Eh, sì, non abbiamo parlato ovviamente di queste grandi spu. Dele grandi saghe. Dele grandi saghe. No, io ho mai letto Harry Potter. Io ho mai letto, ho visto il film. Forse da bambino ti cambiano perché sono i primi che leggi, c'era una serie, piccoli brividi. Ecco cosa volevo dire all'inizio. Era una puntata che sto pensando, mi sono dimenticato di dire una cosa ed era Robert Lewis Stein. Però io lo conoscevo come R.L. R.L. Infatti ho detto Robert Lewis, non ho affatto alcuna certezza, si chiama Robert Lewis. Richard Lawrence Stein. Si chiama Raymond Loll Stein, che ha scritto piccoli brividi e che ci ha veramente iniziato a far leggere a tutti. Sì, è vero, è vero. Con le copertine che mettevano anche un po' paura alcune. E quote dal futuro, se non c'erano gli stickers. Bravissimi gli stickers, che io avevo attaccati all'unotto della macchina, con la gran gioia dei miei. E scusami, ma ci ricordiamo i piccoli brividi, quelli che erano a risposta multipla? Cioè quello che dovevi leggere. Ma il libro game? Se ti va, arriva a pagina 56, se vuoi proseguire vai a pagina 46. Black Mirror ha fatto una puntata così due anni fa. È vero, è vero, è vero. Ma le facevate le schede sui libri, alle medie? Quando dovevi leggere un libro e fare la schede del titolo? Ah, bravo, sì, come no. Cosa ha imparato, cosa non ha imparato. Sì, hai ragione. Alle medie, le medie, ricordo bene. Si è parlato tantissimo di narrativa, di romanzi, di piccoli racconti, di piccoli brividi. Ma quando un autore vuole dire qualcosa in modo diretto, vuole dirlo in modo a te, che stai leggendo, con un bel saggio. Con un saggio. Perché quando andiamo a leggere la classifica? In questo 2021 dove di opinioni ne abbiamo ascoltati. E mi hanno sentito molto. Tante. Forse anche troppo. Andiamo a rileggere la classifica dei saggi più venduti. I saggi più venduti in Italia nel 2021 al numero 10, House of Gucci. Una storia vera, de moda, vedetta e crimine. Lo sapete che Gucci ha denunciato, ha querellato per il film? Ma per fammi capire che non avevano dato un'autorizzazione. No, dicono che è tipo una merda. Ma è tratto da un libro. House of Gucci. Ma sai quanto gli hanno fatto schizzare le vendite con questo film? Ho una domanda. Come mai parlano russo i protagonisti di House of Gucci? I'm telling you, that's Gucci. Oh yes, this is the very typical Italian accent. Yeah, I live in Milano. Oh, that's what I love is to go to the pasticceria cookie or having a panettone at the cove. This place in Italy is Forte dei Marmi. Ciao 2020. Sì, ciao 2020 però con Lady Gaga. Però con molti più soldi. Al numero 9, complici e colpevoli come il Nord ha aperto le porte all'Andrangheta. Mondatori, Nicola Gratteri, Antonio Nicaso. E vabbè, sempre, giustamente, inchieste di mafia al nono posto. Non si preoccupare, al primo ci sono i cartoni animati. 8, il libro delle emozioni Umberto Galimberti. È solo al numero 8 il libro delle emozioni. È un libro bellissimo, veramente. Che cosa ha scoperto in questo libro? Che ho ragione quando voglio io. Chi vuole capire, capisca. Va bene. Va bene, al numero 7. Non posso più fare battute come le facevo prima. Ah, non si può più, ti è stato vietato. Mi è stato vietato, sì. Al numero 7, Instant Storia Contemporanea dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. La storia come non ve l'ha mai raccontata a nessuno di Simone Guida per Gribaudo. La storia contemporanea. Bella, c'è stata, è bella. La storia contemporanea tira. Sfascistoni, manuale di resistenza a tutte le destre. Uno dice, bel titolo, ma l'autore, del nostro amico Andrea Scanzi. Sarà uno dei quattro che ha piazzato in Top 6. Sì, sì, sì. Manuale di resistenza a tutte le destre. Complese? A tutte le destre. La mano destra. Tutto quello a guidare a destra non si può fare. Nine. Non prendere la destra. Non pedoni a destra? No. Persona della quale invidio la vita al 100%. Federico Rampini, l'uomo con le bretelle più eleganti del mondo. Fermare Pechino. Capire la Cina per salvare l'Occidente. La mia vita a New York è una meraviglia. Questa l'ho aggiunto io alla fine. Mondadori. Oh, number four. Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore. Luciana Littizzetto Mondadori. Numero tre. La nuova manomissione delle parole. Gianrico, caro figlio Feltrinelli. Numero due. Perché Mussolini rovinò l'Italia e come Draghi la sta risanando di Bruno Vespa. Questo è il libro della redenzione. Perché lui ne scrive sempre uno a favore d'erduce e uno in cui dice no scherzavo, scusate. Nel ultimo due anni si è dimenticato di scrivere quello contro? A quanto pare. E al numero uno, un libro che la dice lunga su chi sarà il prossimo. leader della Lega. Ragioniamoci sopra dalla pandemia all'autonomia di Luca Zaia. Per Marsilio Luca Zaia, governatore del Veneto. Il saggio più venduto in Italia nel 2021. In classifica da due settimane. Ah no. Il numero uno adesso. Adesso. La classifica di Amazon ora per fare due risate. Si disagistica sempre? No, no, best seller. Va bene. Ah, vabbè. Noi ci stiamo dimenticando mai contro te. Questa è la classifica della settimana e dei saggi. Dei saggi, sì. Super specifica. Luca Zaia, come fare l'amore quando hai un po' meno capelli del dovuto? Come portare bene una pelata? No. Uomo, obiettivamente. Ah no, lui è molto serpeverde tra l'altro. Vero, mega, mega serpeverde. Salvini che casata è? No, Salvini è babbano proprio. No, mega mangiamorte Salvini. Sì, mangiamorte Salvini. Allora, best seller di Amazon invece sono al numero dieci, cucina botanica, vegetale, facile e veloce. Di cucina botanica. No, di Carlotta Perego. Carlotta Perego. Poi al numero nove. Si dice sempre l'editore, Gribaudo. Gribaudo. Al numero nove invece, Mondadori, The King, Fabio. Fabio Volo. Fabio, scusate, una piccola parentesi. Quando abbiamo parlato di una cosa fondamentale, i libri, i Guilty Pleasures, ne avete? Perché il mio è stato appena nominato. Fabio Volo. No. Tu leggi volentieri. No, no, ho letto i primi due libri, ma li ho fulminati proprio. Sono fatti esattamente per questo. Vabbè, ragazzi, leggi mezz'ora, eh. Eh, funziona. Eh, no, no, funziona. Fui Guilty Pleasures? Funziona, sì. Guilty Pleasures di libri? Eh. No, roba di sì, autobiografie. Codice da Vinci. Ah, quella roba. No, lo sai chi? A me i thrilleroni, i thrilleroni quelli da spiaggia. Sono una bomba, tipo Ludlum, Ken Follett. 800 pagine, sì. Io Ken Follett, tantissimo. Tre pomeriggi. Sono belli, bellissimi. John Esbo. Ti consiglio un saggio sul giallo di un critico che ti spiegherà perché. E sai perché non leggerò? Perché mi leggerò intanto Fabio Volocon. Sono stato io ad avere io sui titoli. Comunque, torniamo alla classifica. Il numero 8, Zero Calcare a Babbo Morto di Bao. Giustissimo. Poi, al numero 7, Ken Follett. Che continua a spigne. Perfetto. Talgalles con amore. Mondadori. Attenzione. Al numero 6, la nostra cucina ha fatto in casa da Benedetta Ricette e Storie. E la povera Carlotta Perego della cucina vegetale, facile, facile. Perché è Benedetta Rossi. Ma va a vedere come scuogliano. Benedetta Rossi. E scusate, piccolo appunto. Va a vedere come scuogliano il maiale nelle marche. Guardate quante stelline, cinque stelline piene per Benedetta Rossi. Sì, per Benedetta Rossi veramente, guarda come te fa le torte sta donna. È una cosa incredibile che te fa veramente senti male. Donato Carrisi al numero 5, la casa senza ricordi. Senti, al numero 4 c'è il maialino di Natale. Che è J.K. Rowling, il nuovo libro di J.K. Rowling. Ah, non l'avessi mai detto. Mi dicono che sono una TERF. Leon, diario della fine del mondo. Leon, diario della fine del mondo. Un fumetto. Un fumetto, non ci sono molte altre informazioni. Madonna, ragazzi. Al numero 2, di nuovo, zero calcare, con niente di nuovo sul fronte della Bibbia. Ragazzi, Michele Rec ha due libri nella top 10 di Amazon. Bao, sempre edito da Bao, ricordiamo. Secondo me in top... Cioè, quanti libri realmente vendi nella settimana? Di quanto sei un po' con un'area? Zero calcare è una marea. No, lui sicuramente tanti davvero, così come Benedetta Rossi. Però le classifiche di Amazon basta solo che tu venda, che ne so, 100 copie in un giorno per darti la botta di essere in classifica. È un po' come le tendenze di Twitter, cioè è molto intensivo. Quindi, se un influencer dice, leggetevi il mio libro, e in quei 20 minuti 50 persone comprano il libro, il libro va in tendenza. Però io ho visto una roba, zero calcare, prima della serie, solo pre-vendita del libro, senza lui presente. No, no, no. Chiaramente zero calcare... Numeri bulgheri, però meritati, secondo me. A proposito di Luca Ravenna e dei suoi gusti, abbiamo Adrenalina di Zlatan Ibrahimovic, My Untold Stories, Cairo editore. Ed è quello che conosco. Ma io ho letto quello prima, che è molto bello, effettivamente è molto bello come di proporsi una biografia di un giocatore, e questo ho dubito che lo leggerò. Questo non ti va. Ma mi spiegate perché Ibrahimovic adesso sta facendo il libro sulla sua carriera, il film sulla sua carriera? Secondo libro. Secondo libro. Ho capito, ma... Il primo era io, Zlatan, no? Ancora gioca più in Europa. Appunto, aspetta almeno... Gioca nel Milan, stasera si gioca la Champions League contro il Liverpool da titolare. Stasera, perché ci ascolta, era martedì. Cioè, mi sembra un po' prematuro, anche perché dopo che fa... Ci sono giocatori di 21-22 anni che si fanno l'autobiografia e scrivono magari delle sciocchezze. Le autobiografie vengono lette da personaggi un po' particolari delle curve, che poi vanno a chiedere, ma scusa, ma sta prosa da dove è venuta fuori? Perché scrivi in questo modo? Perché non ti rifai, che so, magari a uno della generazione varial dono... No, non gli dicono questo, dicono che cazzo hai detto in questa riga, t'ammazzo. E sto facendo riferimento ai Cardi, ovviamente, tra gli altri. Senti, vogliamo chiudere con dei consigli, libri che abbiamo letto recentemente, che ci sono piaciuti e consigliamo al nostro gentilissimo pubblico? Ma quando esce il libro nuovo di Amaniti? Eh, infatti, uno dei libri preferiti, mio e tuo, è Che la festa cominci, con l'Amaniti, uno dei più belli assoluto. Troppo divertente. Bellissimo, sì. Io consiglio Cose che succedono la notte di Peter Cameron, stupendo, ho letto recentemente. Io ho riscoperto, uno l'ho già considerato prima, quello di Emanuele Atturo, ho riscoperto ultimamente Chuck Palahniuk. Ah, Chuck Palahniuk, davvero? Ho ritrovato Gang Bang. Ah, Gang Bang, non l'ho mai letto, vedi? Bello, bello, vero. È la storia di un porno, il più grande porno della più grande orge di tutti i tempi, mai girata negli Stati Uniti d'America, che si trasforma in qualcosa d'altro, ma è un modo per raccontare gli Stati Uniti. Bello, molto bello. Molto, molto bello. Recentemente letto L'Avversario di Carrer, di cui l'abbiamo parlato molto. Abbiamo parlato però, ecco, non ne abbiamo parlato così come due vecchie coglioni, ma con il rispetto totale per uno degli autori più figli. Con il rispetto dei più grandi al mondo, vero. E poi io consiglio qualsiasi cosa di Jonathan Franzen, l'ultimo libro che ha scritto Crossroads pare sia bellissimo, però non mi è ancora capitato di leggerlo. Sto leggendo ora Libertà, che è bellissimo. E io concludo con un libro che mi ha molto appassionato qualche tempo fa, ossia C'era una volta ad Hollywood, di Quentin Tarantino, ma solo se avete amato il film, se no fa schifo, se non vi è, mi è piaciuto tantissimo. Ma di chi è il libro? Di Tarantino. Ah, è Luisa. Praticamente sono le scene quasi tagliate dalla sceneggiatura, però è un bellissimo omaggio, no, poi è diversa la storia, incredibilmente, ed è un grande omaggio al cinema di quegli anni e al cinema anche dei giorni nostri. Bellissimo, bene, bene. Carver, ti piace? Sì, ho letto solo mezzo racconto di Carver. Minchia, bellissimo. Eh, non sono... Bellissimo, bellissimo. È uno dei più grandi autori, cioè la... Ti regalerò, so cosa regalarti a Natale. Benissimo. Hai letto Enrico Il Principe il Povero? Il Principe il Povero? No. Ah, ok, beh, anch'io. Perché Mark Twain è il capo dei comici della storia di tutti i tempi, cioè, ecco. Non si chiama Mark Twain Prize a caso. A caso, esatto. Un genio comico, cioè un libro che fa pisciare da ridere, anche quello, anche se è un libro dei nonni, dei nonni, dei nonni. Però ora so cosa regalare. A te e a Tahira non so cosa regalare per Natale. Perché era Meragon, che sto a 15 anni muoio. Che? Io li ho letti tutti, Tahira. Io non so se accollarmi. So a 15 anni. No, non ne vale la pena, posso dirtelo. Per chi ci sta solo ascoltando, ma anche per chi ci sta vedendo, non avete idea della Sparkle che è nata fra queste due persone quando si è andato. Io l'ho letto, anch'io veramente. Sembrava l'inizio di un bel libro. No, perché io e Tahira condividiamo poco, però quel poco è molto intenso. E spesso è la letteratura, nel senso che tipo Harry Potter ci accunisce. Vi unisce, sì. Harry Potter, la droga, i sordi. Esatto. Il vostro modo. Proprio il tuo. Una domanda finale, che ne pensate di questa moda dei libri letti, quindi che voi ascoltate il narratore attraverso le bufie? Una cagata, a questo punto ascoltate i podcast e fra i podcast ascoltate i cashmere. Io non ho mai ascoltato un audiolibro, per essere sincera. In macchina è molto bello sentire i libri. In macchina è bello. Ad alta voce di Radio 3 l'ho sentito spesso molto bello. Per me dipende tutto da chi lo legge. È bello, sì, sì. Infatti su Radio 3 sono attori professionisti che lo leggono. Sì, ovviamente se sbagli in un lettore... Beh, c'è Moby Dick letto da Pippo Franco che è molto bello. Francesco Facchinetti legge. Uscirà mai il libro di Kashmir? Per amore no. Il libro di Kashmir. A questo punto posso dire fumetto. Oh, il fumetto di Kashmir è bello. Questo possiamo proporlo. A zero calcare. Che non vede l'ora di farlo. Certo, siamo esattamente nel suo target. Le stavo a chiedere. In quei giorni stavo a San Moritz. Quanto cazzo costa lo schiupasso? Autodico, sto a Bardoina. Stavo a 10.000 euro al metro quadro. Dai, via qua. Ma peggio che a tennis. Meglio una mano o due? E boh, in quel giorno io me lo stavo troppo a chiedere. Mi stavo a partire l'iscavo pepponzo. Tipico, tipico. Va bene, neanche tipico no. Va bene, salutiamo il nostro gentilissimo pubblico. Grazie Alice, Cecilia, Tahir, Carmelo. Grazie Luca. Grazie Edoardo. Ciao a tutti. Alla prossima puntata di... Kashmir. Senza un podcast morbidissimo. No, noi lo chiediamo così. Vabbè, fate come va.